www.tvprato.it Covid Prato tra le province d'Italia con la più alta incidenza di casi da lunedì vaccinazioni senza prenotazione Tornano i bagni pubblici in centro entro le fine dell'anno riapre la struttura in via dei Manassei Infiamme un bosco a Cantagallo in azione tre elicotteri e numerose squadre a terra Sordata di imprenditori da vita al Montemullo Gioalli Calcio avrà in gestione l'impianto Nelli A voi tutti buonasera parte stasera su TV Prato settembre in diretta la striscia serale quotidiana dedicata agli eventi e alle celebrazioni del settembre per saperne di più ci colleghiamo subito con Lucrezia Sandri che sarà alla conduzione a partire dall'ora 21 A te la linea Buonasera, grazie della linea settembre è tornato ed è tornato anche la nostra striscia serale quotidiana settembre in diretta saremo con voi da stasera fino addirittura all'11 settembre perché è tornata la Kermesse in Piazza Duomo e poi come vi racconteremo anche in varie altre zone della città però è tornato anche il pubblico sono tornati i grandi artisti in Piazza Duomo e quindi noi vi restituiremo tutte le emozioni e le sensazioni dalla piazza e anche dalle altre zone appunto del centro storico con tanta musica le nostre interviste esclusive quindi tante emozioni settembre in diretta quindi a partire da stasera dopo il TG sarà con me il direttore di TV Prato e anche Arianna Di Rubba e Massimiliano Masi che condurranno con me questa avventura fino all'11 settembre perché il culmine della festa è l'otto festa della Madonna della Fiera ma noi andiamo avanti con i tornei della Palla Grossa e con tutti gli eventi che arrivano appunto fino all'11 quindi seguiteci settembre in diretta subito dopo il TG linea allo studio bene grazie Lucrezia più tardi e intanto vediamo cosa prevede nel dettaglio il calendario del festival settembre Prato e Spettacolo Giulia Ghizzani tutto pronto per la sesta edizione del festival settembre Prato e Spettacolo in programma da domani 27 agosto all'11 settembre in Piazza Duomo dopo lo stop imposto dalla pandemia la musica dal vivo torna quindi ad essere protagonista dell'ultima parte dell'estate con i concerti in piazza come nella tradizione della manifestazione pratese il cartellone si compone di cantanti ma anche comici e attori si parte con Enrico Brignano il 27 agosto Max Gazzè il 28 agosto Ercomi il 29 agosto e Samuele Bersani il 31 agosto PFM con la buona novella si esibirà il primo settembre Willy Pejote il 2 settembre il duo con la pesce di Martino arriverà il 3 settembre il 4 settembre sarà la volta di Antonello Venditti la camerata strumentale Città di Prato salirà sul palco invece il 5 settembre Giorgio Panariello il 6 e per chiudere Cristian De Sica l'11 settembre oltre al grande palco di Piazza Duomo e a Villa Guicciardini la Kermes prevede una densa programmazione in spazi differenti come lo stage di Officina Giovani in Piazza dei Macelli l'Anfiteatro di Santa Lucia il Giardino Buonamici il Playground del Serraglio e la terrazza di Palazzo Pretorio per quanto riguarda sempre il settembre ricordiamo che per tutte le sere del festival è in vigore l'ordinanza sindacale che per motivi di sicurezza a tutela della incolumità pubblica vieta di introdurre nell'area degli eventi bombolette spray al peperoncino di somministrazione vendita e introduzione in Piazza Domo di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine con l'ulteriore prescrizione di vendita delle bottiglie di plastica prive di tappo è vietato introdurre in piazza anche zaini e borse di grandi dimensioni e votiamo pagina e passiamo al bollettino covid sono 63 i nuovi casi di covid a Prato registrati oggi per fortuna nessun decesso i nuovi contagi nella nostra provincia sono meno rispetto a quelli di ieri ma a fronte di un numero minore di test effettuati a livello regionale dove i casi odierni sono 677 due le vittime in aumento il tasso di positività che sfiora al 5% e dopo un giorno di tregua in Toscana tornano a crescere i ricoveri 21 in più rispetto a ieri e in terapia intensiva più 2 rispetto alla giornata di ieri intanto c'è anche Prato tra le province italiane con la più alta incidenza di casi covid a dirlo è l'ultimo report della fondazione GIMB riferito al periodo 18-24 agosto Prato è al 12esimo posto con un'incidenza di 163 casi per 100.000 abitanti e sul fronte della campagna di vaccinazione la regione ha annunciato che dal lunedì prossimo tutti coloro che devono avere la prima dose di vaccino potranno farlo presso qualsiasi centro vaccinale senza nessun obbligo di prenotarsi domenica infine in piazza del comune a Prato arriva il camper del progetto giovani si vaccinano 17-23 le ore la fascia oraria in cui sarà possibile ricarsi presso il camper e vaccinarsi anche in questo caso senza prenotazione votiamo pagina tornano i bagni pubblici in centro storico il prossimo mese partiranno i lavori per risistemare i servizi già esistenti in via dei Manassei saranno pronti entro la fine dell'anno vediamo in centro presto sarà aperto un bagno pubblico da tempo ormai nella parte storica della città non sono più disponibili i bagni pubblici in assenza che peraltro si riscontra in molte città italiane a dire il vero le strutture ci sarebbero anche in piazza Mercatale via dei Manassei e piazza Lippi ma negli anni sono state chiuse per varie ragioni soprattutto legate alla sicurezza l'esigenza di poter esufruire di bagni pubblici arriva in particolare dai turisti che frequentano la città nei mesi estivi e che è emersa nuovamente nel servizio che abbiamo realizzato nei giorni scorsi per raccontare la presenza di stranieri in città tanti turisti tra i limiti di Prato hanno sottolineato proprio l'assenza di bagni pubblici che costringe i visitatori ad esufruire dei servizi di bar e ristoranti quando sono aperti o addirittura dei musei il problema però entro la fine dell'anno sarà risolto grazie alla realizzazione di due vici in via dei Manassè in piano centro i lavori sono già stati aggiudicati per un quadro economico totale di circa 50.000 euro e partiranno nel giro di una quindicina di giorni il bagno che prevederà un gabinetto ad uso delle donne e dei disabili ed uno per gli uomini verrà realizzato nello spazio in cui negli anni scorsi era stato costruito il vici autopulente il bagno sarà aperto solo in orario diurno e il comune sta cercando di stringere una convenzione con la società che già gestisce gli altri servizi pubblici in città per pianificare la sorveglianza e fare in modo che il bagno venga chiuso di notte per evitare episodi di degrado un incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in una zona appunto misto di pini e cedo nella zona di Gricigliana una frazione del comune di Cantagallo a complicare le operazioni di spegnimento la forte pendenza due linee elettriche dell'alta tensione e il vento moderato presente in zona la sala operativa regionale ha inviato tre elicotteri otto invece le squadre di volontariato antincendio operai forestali della Val di Bisenzo impegnate a terra oltre al personale dei vigili del fuoco sono impiegate anche autobotti per il rifornimento dei mezzi e ulteriori squadre per le operazioni di modifica e controllo che si prevede proseguiranno per tutta la notte non risultano al momento abitazioni minacciate dalle fiamme non convince appieno la strategia del governo che ha deciso di mettere in campo a partire da settembre 5 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le giovani aziende del settore del tessile moda colpite dalla crisi da covid la misura rischia di essere troppo restrittiva e di non influire positivamente sull'andamento del comparto commentano confartigianato e confindustria sentiamo bene i contributi statali che possano sostenere le imprese nel post pandemia ma la misura messa in campo dal governo nell'ambito del decreto rilancio rischia di restringere troppo la platea degli ammessi e di ridursi ad un semplice spot così i presidenti di confartigianato imprese Prato Luca Giusti e del sistema moda di confindustria Toscana Nord e Maurizio Sarti commentano gli interventi che a partire dal 22 settembre potranno aprire nuovi scenari per le imprese del tessile moda e degli accessori si tratta nello specifico di contributi a fondo perduto per un valore di 5 milioni di euro che il ministero dello sviluppo economico ha deciso di destinare alle imprese di piccole dimensioni costituite da non oltre 5 anni per mitigare gli effetti della crisi economica globale imposta dal covid con particolare attenzione alle start up e ai giovani purtroppo è un provvedimento che sicuramente non influirà minimamente sull'aspetto economico in generale di tutto il settore perché è talmente limitato sia nell'ammontare delle risorse messe a disposizione sia per la platea a cui è destinato credo proprio in maniera oserei dire quasi insignificante l'impatto che potrà avere vedremo un pochino quali sono i requisiti per chiedere questi contributi sicuramente sono utili però l'ammontare non è molto grosso bisogna che il governo ci dia una mano con contributi a fondo perduto di importo più sostanzioso secondo me per giusti serve dunque una strategia globale di lungo periodo che permetta di rilanciare l'economia del comparto per Sarti bisogna puntare su digitalizzazione e sostenibilità ambientale due asset centrali per garantire tenuta al settore noi abbiamo una priorità non perdere quelle competenze che abbiamo acquisito non in tempi brevi ma in tempi lunghissimi che derivano dalla nostra storia per cui la priorità a mio avviso è quella di non perdere queste competenze perché sono le uniche competenze che ci permettono poi di poter ritornare a essere competitivi sul mercato con quelle caratteristiche che abbiamo sempre dimostrato il rispetto sta investendo e investe tanto dal punto di vista del risicolo delle materie e della sostenibilità e delle certificazioni però ecco sono investimenti importanti richiedono cambi di organizzazione cambi di macchinari aggiornamenti per rimanere al passo con i tempi per dare un impulso che non duri un anno ma che duri almeno 50 anni ma non è tutto il ministro Giorgetti ha infatti firmato un decreto che riconosce alcune agevolazioni sotto forma di credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino giusti e certi prendono tempo per comprendere meglio il piano e non si sbilanciano ricorre oggi l'anniversario della festa della Madonna del Giglio la ricorrenza è stata celebrata presso l'omonimo Santuario in via San Silvestro giornata di festa al Santuario di Santa Maria del Giglio sono infatti passati 357 anni da quando un giglio secco posto davanti a un dipinto raffigurante la Vergine rifiorì in maniera inaspettata il prodigio richiamò subito molti fedeli e fece nascere una particolare devozione a Maria devozione rimasta e mutata nei secoli in quel punto sorgeva l'antica chiesa dell'ospedale e si pensò subito di erigere un santuario l'8 marzo del 1680 fu dedicato a Santa Maria del Giglio il prodigio si verificò appunto il 26 agosto alla fine di un'estate probabilmente calda come questa del 1664 il giglio che era esposto al sole perché era il tabernacolo della Vergine era in esterno sul pozzo che dava su via San Silvestro rifiorì prodigiosamente oggi noi ne conserviamo una reliquia lo stelo praticamente disseccato ovviamente fu per tutta Prato un segno della predilezione in qualche modo della Vergine e fu anche un segno di rinascita sicuramente anche quest'anno la tradizione si è ripetuta nel santuario di Santa Maria del Giglio quella di oggi è stata la prima festa senza Don Renzo Franca Lanci scomparso lo scorso marzo a 85 anni per 40 anni il rettore del santuario di via San Silvestro è da sempre impegnato a tenere viva la memoria dell'evento prodigioso all'origine della costruzione della chiesa tradizione che si è rinnovata grazie alle delegazioni pratese dei Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Prato di cui per molti anni Don Franca Lanci è stato priore Cavalieri che quindi hanno organizzato per il pomeriggio di oggi la recita del rosario e a seguire la celebrazione della messa il primo anno da quando è morto Don Renzo per la verità già lo scorso anno organizziamo noi in qualche modo proprio per mantenere anche la memoria di questo evento prodigioso c'è una messa propria della Madonna del Giglio che noi celebriamo l'8 marzo che è la data in cui ricordiamo la traslazione dell'affresco dall'esterno dal pozzo all'altare e il 26 di agosto appunto il prodigio con messa propria ci spostiamo a Montemurlo il sindaco Simone Canamai prende posizione contro i gravi episodi di schiamazzi notturni e diverbi tra giovani che nell'ultimo periodo si stanno verificando a Montemurlo nei pressi di Piazza della Libertà e Via Indipendenza l'ultimo in ordine di tempo è venuto ieri notte e ha suscitato particolare disagio e inquietudine tra i cittadini svegliati nel cuore della notte da urle litigi tra ragazzi stamani il primo cittadino si è confrontato anche con la locale tenenza dei carabinieri per cercare una rapida soluzione al problema oramai la situazione non è più tollerabile per questo ha affermato Calamaio e ha chiesto ai carabinieri di intensificare i controlli durante le ore notturne richiesta di intensificare i controlli rivolta anche alla polizia municipale l'ospedale pediatrico Maier diviene istituto di ricerca scientifica a Valenza nazionale la regione toscana ha avviato l'iter per il riconoscimento vediamo più fondi per la ricerca e lo sviluppo di nuove cure per i bambini con il passaggio a istituto di ricerca scientifica a Valenza nazionale l'ospedale pediatrico Maier si appresta a fare un nuovo passo nel futuro dopo 130 anni di vita la regione toscana ha infatti avviato l'iter per far diventare il Maier un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ha inviato i documenti al Ministero della Salute un percorso che lo possa rendere istituto di ricerca nazionale istituto di ricerca significa finanziamenti da parte del Ministero significa anche un coinvolgimento del Ministero in quello che poi sono le attività scientifiche del Maier e quindi entrare un po' in quel clima delle grandi strutture nazionali che hanno una proiezione internazionale su cui il Maier c'è però finora a metterci le risorse è sempre stata la Toscana questo riconoscimento permetterà all'ospedale fiorentino di parificarsi ad altri istituti come il Bambin Gesù di Roma e il Gaslini di Genova già riconosciuti come IRCS questo quindi per noi è un salto di qualità importantissimo nel campo della ricerca per i nostri scienziati i nostri ricercatori che avranno così la possibilità di accedere a fondi nazionali europei per la ricerca che ad oggi erano preclusi perché destinati appunto agli IRCS saremo il primo IRCS pubblico nella storia della regione e quindi penso che questo porti un riverbero positivo per tutta la regione anche il servizio sanitario regionale con questo ulteriore salto di qualità il Maier potrà avere nell'organico ricercatori puri che affiancheranno gli altri professionisti già presenti passiamo allo sport calcio il Prato pareggiato 1-1 la Michaevole contro il Seravezza di Maione il gol messo a segno dai Biancazzurri prossimo test a Michaevole sabato 28 agosto alle 19 a sesto Fiorentino contro lo Scandici intanto la società Laniera ha definito l'arrivo dal Milan di Simone Tirapelle esterno classe 2003 la trattativa è stata definita dal direttore generale Ivano Reggiani che è riuscito a anticipare Fiorentina e Perugia che avevano messo nel mirino il talentuoso giocatore rosso-nero nasce il Montemurlo jolly calcio una cordata di imprenditori ha scommesso sulle potenzialità del calcio montemurlese soprattutto per quanto riguarda la formazione giovanile la nuova società gestirà il campo sportivo Nelli ce ne parla Massimiliano Masi Montemurlo ha pescato il jolly è stata presentata la nuova società calcistica Montemurlo jolly calcio costituita con l'intento di rilanciare il calcio a Montemurlo il sindaco Simone Calamai è riuscito a coinvolgere nel progetto una cordata di imprenditori di riferimento della zona Massimo e Federico Corrieri della Cofil Daria Orlandi e Matteo Nigi della Coedil e Massimo Bartolini del Maglificio Bartolini insomma una società solida con Federico Corrieri che sarà il presidente e l'ex giocatore di Prato e Montemurlo Simone Giorgetti nel ruolo di direttore generale una nuova società che è sicuramente solida fatta da persone con grande competenze e anche professionalità nel loro lavoro che consente di unire ancora di più quello che è Montemurlo il suo territorio le sue imprese allo sport per noi lo sport è da tempo una grande priorità da qui passa la crescita e la formazione dei ragazzi e siamo convinti che da oggi si possa dare un'opportunità a tutti i nostri piccoli montemurlesi la nuova società ha ottenuto in gestione l'impianto Adonelli di Montemurlo fino al 30 giugno con il comune che ha risolto la precedente convenzione e svolgerà l'attività di puro settore giovanile allestendo le squadre dal 2008 al 2014 l'attività si svolgerà all'impianto Adonelli dove sono iniziati i lavori di rifacimento del manto sintetico il campo sarà disponibile a partire da fine settembre partiamo da quello che c'è quindi da poco ma speriamo che in poco tempo nel minore tempo possibile di riportarlo in auge riportare lo stadio in auge e riportare i bambini di Montemurlo e non solo a giocare a pallone siamo entrati perché vogliamo bene al territorio crediamo nel territorio e vorremmo anche che ad esempio i figli dei nostri operai comunque continuassero a vivere questo comune anche fuori dall'attività lavorativa insomma Montemurlo si volta pagina e si riparte su basi solide con l'intento di ritornare ad essere punto di riferimento calcistico per l'intera provincia il comitato regionale toscano ha ufficializzato la composizione dei gironi per i campionati di eccellenza e promozione nessuna sorpresa per le formazioni pratesi in eccellenza Prato 2000 e Zenit Audax sono state inserite nel girone A con le formazioni lucchesi massesi e pistoiesi stessa collocazione geografica anche per le due formazioni che prenderanno parte al campionato di promozione Malesiti e Viaccia inserite anche in questo caso nel girone A e adesso l'appuntamento con l'agenda agli eventi in programma domani a Prato e dintorni domani alle ore 21 in Piazza Duomo nell'ambito del festival Settembre Prato e Spettacolo lo show di Enrico Brignano dal titolo Un'ora sola ti vorrei alle 21 e 15 all'Anfiteatro di Santa Lucia The Bastard Songs of Dioniso in concerto ad aprire l'appuntamento Caterina Cropelli alle ore 21 ad Officina Giovani nell'ambito della rassegna Officina Jungle Paolo Benvenu in concerto è in programma alle ore 21 e 30 al Castello dell'Imperatore la proiezione del film State a Casa alle 21 e 15 al Chiostro dei Bardi a San Quirico di Vernio San Quirico Luoghi e Personaggi presentazione del primo volume della serie Luoghi e Personaggi della Biblioteca Petrarca ultimo appuntamento della rassegna Apri di Chiostro e infine da venerdì 27 a domenica 29 agosto sempre in serata all'ex canonica Pieve di San Giovanni De Collato alla Rocca di Montemorlo la terza sagra della Bistecca un appuntamento a cura dell'associazione Il Borgo della Rocca e della sezione Alpini di Montemorlo con il patrocinio del Comune di Montemorlo Bene è tutto vi lasciamo alle previsioni meteorologiche a cura del Consorzio LAM e poi alla prima puntata di settembre in diretta grazie e buona serata con i programmi di TV Prato Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar Abbiamo scelto gli uomini giusti perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni Prato Polo professionisti della sicurezza non guardi Noi della gelateria a zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Prato Buonasera e ben ritrovati con il meteo del Consorzio Lamma Naga la giornata di domani una saccatura dal nord Europa tenderà pian piano ad avvicinarsi alla nostra penisola favorirà la formazione di un minimo secondario sul Ligure con richiamo di correnti più umide e instabili dai quadranti meridionali caleranno le temperature soprattutto nel fine settimana un miglioramento atteso soprattutto dalla giornata di domenica andiamo per gradi per quanto riguarda la giornata di domani venerdì aumento della nuvolosità già in mattinata su tutte le zone settentrionali anche rovescio e piogge previste soprattutto sul nord ovest ovviamente sulle province di Massacarrara e Lucca nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà soprattutto sulle zone appenniniche con possibilità anche di qualche rovescio soprattutto sul valdarno medio ed inferiore inserata anche sulle zone più orientali e meridionali della Toscana domani temperature in lieve diminuzione nei valori massimi tra 29 e 30 a 31 gradi centigradi nelle pianure dell'interno soffieranno venti domani di Libeccio soprattutto a nord di Capraia con mari fino a Mossi infine la previsione per la giornata di sabato ancora molta variabilità nel corso della mattinata con ancora possibilità di rovesci sparsi nel pomeriggio l'instabilità riguarderà soprattutto le zone meridionali e orientali ovviamente le province di Arezzo e Siena migliorerà la situazione sulle zone di nord ovest temperature insensibile calo non oltre 27 e 29 gradi centigradi complici venti che ruoteranno ai quadranti settentrionali fino a moderati è tutto grazie per l'attenzione una buona serata noi della gelateria zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino il nostro è un gelato naturale di fresca mattinazione senza additivi e da sempre senza glutine come i nostri dolci e il nostro yogurt vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Fraso e in via Bologna 159 a Fraso e in via Bologna 159 a Fraso e in via Bologna 159 a Fraso